Musica E allora ragazzi salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video nel quale sono insieme a New734 Salve a tutti E siamo sull'account di Wardor Allora prima di tutto andiamo a partecipare agli eventi Aya mi sono Ti stavi tirando il telefono addosso Mi stavo uccidendo Vabbè se tagli dai Allora in tutto questo noi siamo comodamente sdraiati sul letto perché oggi siamo pigri Molto pigri Allora estrazione fortunata Vediamo Baldoria forutunata Forutunata Ma perché? Dislessia portami via Baldoria forutunata Forutunata Ma perché fanno questi eventi? Arruzzaggine Abbiamo ben sette possibilità ragazzi quindi Vediamo un po' Iniziamo la lotteria Vai 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 Proprio diretto Azzo Ah bene il numero Ah ok il numero è buono Ah no ho letto 8 Perché mi fanno le sole? Serve un 9 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 8 Classifica 18 18 Wow siamo addirittura alti Con un 5 Mamma mia Che poi in questo evento è tutto un casino Cioè allora se andiamo a vedere Allora Dice Premi generale per ottenere un codice a 6 cifre Che non è a 6 cifre Ogni numero è unico Il più lungo è 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Che sono 9 cifre Vabbè la matematica l'hanno imparata con gli ignami quindi Sì infatti Quindi Già C'è un errore qui Però quando noi andiamo a premere Generiamo un numero di 3 6 8 cifre Quindi Noi non solo non generiamo di 6 cifre ma di 8 Ma il più grande che è di 8 cifre Non è 9 9 9 9 9 9 9 9 Ma c'è un 9 in meno Quindi Totalmente L'unico gioco dove la matematica è un'opinione La loro Sì sì Vabbè Vabbè Questi bug Baldoria Forutnate Qui invece andiamo nell'italiano che è sempre molto quotato Ah ok questo non è un evento da fare Ah così Forziere del tesoro Oh carino il forziere del tesoro Come funziona sul Ah ok 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 Quanta gente Quanta gente che puoi vincere Sì troppo Tanto non ne trovo mai Tanto non vinceremo niente Vabbè Abbiamo Quinkve estrazioni 5 Quindi cominciamo a prendere Moltanica 1500 Do Che sono uguali a moltanica Do 140 frammenti 5 sacca degli emblemi rare però Non mi dico Rare Ma il più fortunato lo riapriamo Un emblema rigenerazione 4 livello 2 Porca miseria Wow Wow Che culo 200 meriti Va bene Quindi anche questo è andato Un emblema rigenerazione livello 2 Ok basta Ok basta Una carta leggendario 5 cartel Blablabla Magnifico Ok quindi Su questo account andremo in cerca di leggendari Non mi importa quali Ah Non abbiamo richieste particolari No Andiamo in cerca di leggendari Semplicemente Perfetto Cominciamo subito con Dov'è? Ah puoi cominciare con la carta? Sì 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 Diretto Benissimo E prendiamo il paladino No il Godzilla di neve Meglio del paladino Onestamente sì Aspetta aspetta Ci stanno aggiungendo cose ancora Oh Ma è bella Box event mail content Sì Non ha un nome Esquatilo Ah mi sa che non hai slot Possibro No dai Oh ne hai slot Sì no ce l'ha L'ho visto adesso Eccolo Ok perfetto Quindi è solo un po' di lag Ah queste lag No Con pelle coriacea Uno su otto Non ce ne frega niente Quindi cominciamo a ingaggiare Ma vi ho già che posso dire Possibile Molto possibile Sì eccolo qua E boh Lo teniamo Ma sì In caso possiamo sacrificare qualche eroe E light Come dice Zebbo89 Cominciamo a ingaggiare però Come magazzino Facciamo Inghaggiate da uno Inghaggiate Quando mai hai detto Inghaggiate Inghaggiate ragazzi Di nuovo che mi fa Pende Pende Vabbè Cioè dai Bellissimo Carino Così proprio Va bene Ok Io mi ritiro Mi ritiro Bellissimo Bellissimo Pazzesco Dai Ecco Hai spezzato L'incantesimo Un duca zucca Un cupido No Meraviglioso Wow però eh Cioè Se non li avesse già avuti Tutti e due Avremmo cominciato proprio bene Caspita Sì ma Davvero poche slot Zio Zio Una rollata te la caccio Eh 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 Ricordate bambini Lasciate sempre tante slot Attive Per lo zio cazzo Sì sì Zio 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 Ciclope Samano Saman king Licantropo Eh mo ormai L'incantesimo è finito Dici Sì dico Secondo me Etta Che poi hai trovato i due Tra virgolette più Vabbè Dicevi Oddio Ma perché quando ero lì sul mio account Non trovi niente Wow il dito magico Cioè mi sto divertendo un sacco Perfetto che stiamo per finire di nuovo le slot Ecco qua Sì ma l'è libero Dai essa Dracula Ehm devi prendere Ho già prenduto Ma vedi Per colpa tua ho prenduto due volte Sì sì per colpami Tauro ce l'aveva Mi pare di sì Ah ma c'hai tutti Amore mio Sì però è divertente Rolly Sì esatto Cioè quando ero lì Non in cerca di qualcuno Trovi tutti Esatto Io così devo fare Magari mi esce Babbo Natale Tipo questo Babbo Natale? No no Non ci provare Non ci provare Dai Ehi Ok Dai dai adesso Ma questa S qui è l'S di sola Sì secondo me sì Guardate Ma è l'S di Sacrifice Dai Sacrifice Panda Dai dai Painda Un altro painda Un sciaman Staman King Staman King Dai 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 Internet Internet Plozzo Ok Ecco appunto Carnefice Ma sempre col carnefice che si impalla comunque Sì qui oggi sono rollate da uno però Carine Non lo fare mai più Dai 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 Un altro bellissimo leggendario Questo? Non lo fare Non lo fare Non funziona Ah tu dici Babbo Eh? Questo Babbo Natale che spunterà mo' Ok aspettiamolo Se spunta Babbo Natale? Ti picchio Perché sul mio non lo rolli mai Linfa Dai Si sono fermati i leggendari Eh beh Un verde Ancora i verdi non li avevamo Ok basta Dicevi Verde verde Blu Niente slot Vabbè Continuiamo da uno Fino a quando non prenderemo un doppione Si potrà fare Cioè un Vabbè Un doppione Uno nuovo Quello là Ehi sono finiti i leggendari Dai Mamma mia Leggendari La draide Un altro gigante Un altro gigante Ma la mai Oi Oi Si è perso Altre 980 gemme Dai 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 Guarda se non becco più i leggendari Apro anche un paio di carte per i talenti Ma Poi magari si intacchia perché non voleva Ultima rollata Sciamano Oh dai Non ci possiamo assolutamente lamentare No no Anzi Mamma mia ma Realmente sei stato fortunatissimo Allora Abbiamo preso in queste rollate Un treno che passa Un treno che passa Quattro leggendari Che sono Trentauro Cupido Zucca E ninja Vabbè Quindi io le carte Le lascio tutte qui Oppure li apro E vedo che talenti hanno Andiamo a vedere che talenti hanno Questi eroi A posto Cupido Cupido 30 euro 30 euro No Ninja E per finire Zucca Ducca Zucca Ducca Poi gli altri te li lascio Te la destituire Fai tu cosa vuoi Ma cosa Vediamo i talenti Il ninja ha Ira del cielo 3 Buono Ma non è male Successivamente la zucca Scottatura No Pelle Corea C'è uno Cupido Rigenerazione 5 Rianimazione 5 Quasi 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 Ok no Rianimazione 5 Comunque ti eri dimenticato Nell'anno verare I leggendari Che hai trovato Il Godzilla di neve Nella carta leggendaria Ah si? Eh si Non l'hai detto Hai detto che Ah si abbiamo anche Questo cosa Questo cosa Poverino Ragazzi per questo video è tutto Spero vi siete divertiti Insieme a noi Vi invito a lasciare un like E soprattutto se ancora Non lo avete fatto Ad iscrivervi al canale Alla prossima Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi